Luis, è il secondo anno che sei al Crotone, in questo anno sei cresciuto tanto, sicuramente ti sei ambientato, sei ancora giovane, punterai sicuramente alla stagione 2021-2022 per metterti in mostra, ti stiamo vedendo, ti stiamo osservando che ce la stai mettendo tutta, massimo impegno. Sì, secondo anno che sono qua, mi trovo bene, mi sento bene e stiamo preparando con la squadra per dare tutto in questo anno e che dobbiamo andare su. Come ti stai trovando in questi primi giorni di ritiro con il nuovo mister, ti abbiamo visto anche in un nuovo ruolo? Mi trovo bene, lui ha parlato con me, mi parla lo che devo fare, lo che devo imparare in questo nuovo ruolo, ma mi sto trovando bene, devo imparare ancora, ma mi trovo bene. Come hai trascorso queste vacanze, qual è il tuo obiettivo per la prossima stagione? Le vacanze bellissime perché da quasi un anno che non guardavo la mia famiglia, parenti, tutto. Adesso che ho arrivato mi sento bene, mi sento caricato e posso stare meglio. La nuova stagione la stiamo preparando, come ho detto, con la squadra e con il mister. Hai fatto una doppietta, ovviamente gli avversari sono dei direttanti, però serve per mettere minutaggio nelle gambe, provare le nuove idee del nuovo mister. Sì, questa partita mi fanno bene perché così posso prendere fiducia, mi trovo con le ragazze che sono nuove, che non lo conosco e niente, con il mister tutto bene e seguimo imparando tutto.